Ma sembra proprio una bella città, magari alcune zone un pochettino da rivedere dal punto di vista della pulizia, però accogliente diciamo. Venite da? Milano. È la prima volta che venite? Prima volta, prima volta sì. Qual è il giro che farete adesso? Noi arriviamo dal mare, da Macefalù, quindi abbiamo fatto una settimana a Cefalù, adesso facciamo due giorni a Palermo e poi rientriamo. San Giuliano Milanese, Milano. Come avete trovato Palermo? Il centro è bello, la periferia è un po' meno. Qual è il giro che state facendo, dove andrete? Noi abbiamo fatto il tour della Sicilia, ieri e oggi, gli ultimi due giorni, domani si riparte. Il posto è più bello? Il posto è più bello? Sì. Tutti, tutti, Ortigia, Palermo, Cefalù, Marzara, tutti. Tutta bella. Ne vuole uno più bello? Tutta bella, si mangia bene, cordiale le persone, no no. Non è piaciuto tutto. Possiamo quindi raccomandare la Sicilia ad altri turisti che magari? Certamente, sì sì sì, è da venire. Ma i servizi, forse ho qualcosa sui servizi, i trasporti, quello sì. E il resto va bene. Non c'è niente che non va. Tutto bello. Come abbiamo fatto noi, abbiamo fatto attacco, un giorno qua, un giorno qua, abbiamo girato. 8-9 giorni che siamo in giro. Cibo, luoghi, tutto bello. Cibo buono, luoghi bellissimo, tigia bellissima, ci andrei a vivere. Però una fregatura al mercato di Badalò. Cosa è successo? Eh, 4 arancini, una birra in 4, 29 euro mi sembra. Quando da Milano mi dicono, con 2 euro in Sicilia mangi. Non è vero, non è vero. Questa cosa l'ho trovata in nessuna parte della Sicilia. Con 2 euro non mangi niente. Non è vero, non è vero.